No, ma già non è successo. Ah, ma no. Ma questo insegna, magari... È il capo, è il capo. È il capo del cuore. No, ma chiamate l'università, ragazzi. È il dopo del cuore. Giove, mangi, giove, mangi. Dammi un po' di... Olio? E un freddo. Questo lo posso passare? Passo. Grazie. Basilico? Sì. Dell'orto? No, lo mettiamo dopo. L'abbiamo dopo, perché si inizia. Se dovessimo non piace un filino d'olio... Aspetta che non voglio prendere niente al palazzo. Alcuno mi apre la... È già tutto aperto. Ah, sì, la legge. Perché poi la pizza ruffica, poi il forno elettrico... C'è la tecnica qua? C'è la tecnica qua? No, non posso fare il mondiale, eh? Presidente, la partezza è ottima. Grazie. A me ne piace la pizza, te? Quasi, la pizza... Eh, no, no, era per pregare... No, quella è a triangolo. Guarda, guarda, dalla sofficità della piegatura al centro... No, no, adesso... Ah, bene, c'è un futuro... Guardate la pasta... Dopo che c'è la farina giusta... Ma non mi permette da dare voti perché diventa pericoloso. Se ne da pochi si arrabbia.